Amici di Risonanza in Musica, buonasera a tutti. Siamo qui per farvi assaggiare un po' del nostro massaggio sonoro, questa sera per voci e ciotole tibetane. Per sperimentare il nostro massaggio potete contattarci al 328 344 2667 e raggiungerci qui nel nostro studio, oppure iscriverci su Facebook alla pagina Risonanza in Musica. Ogni mese poi è possibile venire nel nostro salotto per gli incontri, appunto sabato in salotto, dove diamo anche lì un assaggio del bio massaggio sonoro insieme ad altri amici appassionati del mondo di Risonanza in Musica, ma non solo, anche per condividere poesia, letteratura, musica di altro genere. Quindi vi aspettiamo, se siete nella zona di Cuneo e dintorni, potete contattarci al numero che vi ho dato prima e prenotarvi. Il prossimo incontro di sabato in salotto sarà a novembre, la data prevista è il 26 alle ore 21. Vi aspettiamo, vi auguriamo una buona notte, un abbraccio. La data prevista è il 26 alle ore 21. La data prevista è il 26 alle ore 21. La data prevista è il 26 alle ore 21. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.